Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video, ultimo video della serie Acronimi Informatici. Ricordo che i video che fanno parte di questa serie contengono al loro interno due parti, una prima parte audio con il contributo di qualche immagine e una seconda parte video, tutto all'interno dello stesso unico video. Allora, con la serie Acronimi Informatici abbiamo passato in rassegna diversi componenti informatici, come la CPU, le RAM, la ROM, la GPU, eccetera. E nel video precedente a questo abbiamo visto la scheda madre. Bene, in questo video parliamo un poco del PC, dentro il quale si trovano appunto i componenti che abbiamo visto in questa serie, o che per meglio dire compongono appunto un PC. PC è l'acronimo di Personal Computer, calcolatore personale in italiano o detta tra noi computer personale. Ma perché questo acronimo? Allora, se ripercorriamo una storia recente, più o meno recente del computer, incontriamo tre diversi tipi di computer elettronici. Uno, i mainframe, mi pare che ci troviamo intorno agli anni 40, erano computer che occupavano stanzi intere. Attualmente i mainframe ancora ci sono, vengono utilizzati da grandi aziende o strutture in generale. Un esempio di mainframe attuale è l'IBM Z Enterprise EC12. Due, possiamo trovare poi, andando avanti appunto con la storia, i minicomputer, che erano dei computer più piccoli rispetto ai mainframe e quindi utilizzabili anche da aziende o strutture più piccole. Un esempio di minicomputer può venire rappresentato dal PDP-7 della Digital Equipment Corporation. Tre, troviamo i microcomputer, che era una tipologia di computer degli anni 70 e, date le dimensioni ridotte dei microcomputer, si potevano venire acquistati anche da singoli privati. Poi troviamo negli anni 80 gli home computer, che erano un'evoluzione dei microcomputer e infine i personal computer, abbreviati in PC. Sia gli home computer che i personal computer sono dei microcomputer. Un esempio di microcomputer degli anni 70 è sicuramente il MOS-KIM-1, commercializzato inizialmente dalla MOS Technology. Un esempio di home computer invece può essere rappresentato dal Commodore PET, mentre un esempio di personal computer può essere rappresentato dall'IBM XT. È stato usato il termine personal proprio per sottolineare il fatto che queste tipologie di microcomputer sono destinati anche all'uso dei singoli privati, anche a causa del poco spazio che appunto i personal computer richiedono, a fronte per esempio dei mainframe che occupavano una stanza intera. Vi sono diverse tipologie di personal computer, per esempio i principali, i due grandi gruppi, i PC fissi o PC desktop e i PC portatili, ma appunto tra i PC portatili per esempio i notebook. Ma tra i personal computer possiamo trovare anche altre tipologie o sottocategorie come per esempio i tablet PC, i computer palmari, le workstation. Comunque si possono trovare i PC, PC prevalentemente insomma fissi, di due categorie, assemblati o pre-assemblati. La differenza sta che i computer pre-assemblati sono computer di marca come per esempio HP, Dell, IBM, Acer, mentre i computer assemblati sono computer che vengono assemblati in maniera personalizzata o da privati o da negozi, assemblando componenti di proprio gusto e secondo le proprie necessità. Il personal computer attuale per funzionare ha una struttura ben precisa. Per funzionare normalmente un personal computer necessita principalmente di almeno sette componenti. Scheda madre con tutti i componenti a lei annessi, unità di elaborazione centrale detta CPU, memoria volatile e non volatile, canale di comunicazione dei dati detto bus, scheda video integrata o dedicata, alimentatore e dispositivi come tastiera, mouse e monitor. Ora spostiamoci nella parte pratica e vediamo un personal computer. Ed eccoci ritrovati nella seconda parte di questo video. Qui abbiamo una postazione con un pc fisso, un desktop, un pc desktop. Il case dovrebbe essere di dimensioni micro tower, credo, perché anche diciamo il case, quindi diciamo come dire il cassone del computer che noi vediamo, ha le sue dimensioni. Le dimensioni principali sono caratterizzate, diciamo vengono chiamate, partono diciamo dal dal tower, dal tower, dal tower, no? E vengono chiamate micro tower, mini tower, mid tower o middle tower, tower e big tower. Queste dovrebbero essere le principali, diciamo dovrebbero essere appunto queste le strutture che caratterizzano il case del computer. Allora prima abbiamo parlato di sette componenti che un po' caratterizzano ecco il pc, che lo rendono funzionante normalmente, che fanno sì che possa svolgere normalmente la sua funzione. E le vediamo qui. Partiamo per esempio da qui, vediamo il monitor, poi vediamo la tastiera, il mouse, quindi abbiamo questi tipi di dispositivi, siamo a uno, poi siamo un po' alla scheda madre e siamo a due con appunto anche i bus, quindi i canali di comunicazione dati e siamo a tre, quattro abbiamo la scheda grafica, in questo caso dedicata, cinque, abbiamo la CPU, l'unità di elaborazione centrale che sta sotto il dissipatore, sei, abbiamo la memoria volatile e non volatile, può essere per esempio rappresentata dal disco rigido come memoria non volatile e dalle RAM come memoria non, dalle RAM come memoria volatile e sette l'alimentatore, quindi il PS1, quindi questo un po' è quanto, sono i principali componenti che caratterizzano appunto, e periferiche che caratterizzano il computer. Quindi questo è tutto, anche per questo video vi ringrazio per avermi seguito, vi ringrazio per aver dato questo video e in generale la serie acronimi informatici, ringrazio tutti in particolare gli iscritti e al prossimo video.